Un caro saluto agli amici di Sport Casertano, purtroppo forse il sogno è svanito, la Casertana nell'anticipo del giorno prima di Pasqua ha perso col Campania e ha perso malamente nel senso che era una gara che poteva far sua due legni colpiti da uno da Maiella e un altro da Di Matera, gol letteralmente manciati sia da Maiella che da Pastore ed è una gara nata a sorta forse dall'inizio, un campo che non piaceva, la tifoseria che era stata vietata di assistere alla gara e questo è impolito il mio modo di vedere anche sul risultato perché se i tifosi avessero avuto la possibilità di poter seguire la squadra forse avremmo visto una partita diversa. Il mio modo di vedere è che l'allenatore ha commesso ancora il solito errore nelle altre partite gli avevamo detto che chi vince ha ragione, aveva avuto ragione lui ma noi siamo convinti che quando lui effettua sostituzione che toglie un centrocampista e mette una mezza punta, poi ne mette un'altra mezza punta e poi è costretto a mettere sempre Mortellit che non è centrocampista ma farlo giocare nel ruolo di Pontillo credo che qualcosa non funziona. Quando sai che gioca contro una squadra che ha la sua forza nel centrocampo e nella difesa in effetti ha il Campania la migliore difesa insieme al Martina 21 gol e il Martina 22 subito dal Campania e quando una difesa subisce po' goli significa un ottimo centrocampo che fa filtro davanti alla difesa e in effetti dopo le sostituzioni quando perdevamo 1-0 abbiamo avuto l'occasione con Esposito e una gran parata del portiere Mennella e il Bomaella quasi a porta vota, non quasi, a porta vota ha buttato la sfera fuori però dopo quel momento il Campania ha avuto la partita in mano, ha raddoppiato sul calcitore e poteva anche segnare il terzo e quarto gol perché eravamo talmente sbilanciati che il Campania ci poteva realmente far male. Uno rimane male e rimane male come avevo detto in precedenza perché non è che la Casettana abbia giocato a Valencia, ha fatto una buona partita anche se alcuni uomini della sua rosa messi in campo da mister Ferraro non stanno attraversando un buon momento. Sono coloro che dall'inizio del campionato stanno sempre giocando ed è anche umano che ragazzi che non hanno nelle gambe 25, 30, 35 partiti incominciano a patirne e pagarne le conseguenze. Domenica prossima c'è il Gaeta, fanalino di coda auguriamoci che la Casertana con questo subito non abbia avuto un contracolpo e che incominci di nuovo la rincorsa verso le prime della classifica che vede la Sarnesa a 6 punti, su di noi a 4 e a 2 sul Martina. È un campionato tutto da giocare maggiormente a mio modo di vedere fra Martina e Sarnese ma noi potremmo essere il terzo incomodo, ce lo auguriamo di cuore. È un appello che voglio rivolgere ai tifosi che se è possibile coloro che seguono il nostro sito e che ci cliccano, che hanno la bontà e l'amicizia di ascoltarmi, se domenica possono venire allo Stato, la Casertana ha bisogno ancora di voi e io credo che se venite allo Stato potete fare una cosa ottima. Io ho proposto per chi segue su Caserta Goal ho lanciato un'idea che non è mia ma del collega Gazzillo di una non polemica, di una contestazione costruttiva, positiva. In effetti uno viene al campo e dimostra alla società che la tifoseria è presente ma la tifoseria chiede con forza alla società di pronunciarsi sul proseguo del prossimo campionato. Questo credo che sia una cosa molto bella e che possa aiutare la dirigenza della Casertana a proseguire sul proprio cammino. Alla prossima! Ciao!